Guarda, Titina! Hai riconosciuto chi è, eh? Fosse via! Guarda! Quello è un dirigibile! Sono qui per dirvi! Ma tu sei sola, vero? Parlo con Umberto Nobile. Il mio nome è Roald Hammussel. Sono un esploratore. Voglio andare al Polo Nord a bordo di un dirigibile. Per tutti i cannelloni è meraviglioso. I cannelloni sono buoni. Avete portato il vostro cane? Sì, certo. Chi se ne prenderà cura durante il viaggio? Signora Hammussel? Stiamo andando bene? Mi dispiace disturbarvi, ma dobbiamo dirigerci verso estero. No, Titina! Attenzione! Credo di essere atterrato proprio al Polo Nord. Cosa? Allora è Nobile che ha trovato il Polo Nord. Hammussel è diventato il primo uomo a raggiungere il mitico tetto del mondo. Non posso socraiderci! Mangia pizza! Scigliatore della Domeni! Oh no! S.O.S. Vi sentite? S.O.S. 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 S.O.S.